è il giorno dei muri marchigiani al giro italia dopo il gran sasso nel giorno prima della cronometro il gruppo affronta una di quelle tappe che chiama attacchi nel finale con i muri verso fossombrone partenza da terni partenza la quale purtroppo non ha potuto prendere parte filippo ganna una defezione pesantissima per il giro italia proprio alla vigilia della crono quella del recommend dell'ora che lascia vuota la sua bicicletta stamattina a causa di lievi sintomi influenzali e di un tampone covid positivo che ha consigliato alla inos graadiers di ritirarlo alla corsa per evitare problemi in futuro non esistono più i protocolli covid al giro italia ma è una decisione della squadra per preservare la salute dei propri tesserati questa è la tappa di oggi che scollina fra gli appennini umbro marchigiani e poi arriva nella zona di fossombrone ci sono i cappuccini uno strappo interessantissimo da affrontare due volte in mezzo c'è il monte delle cesane una tappa ai 207 chilometri che viene affrontata tutta ad un fiato al gruppo a inizio gara ci sono tentativi di fuga a tutte le parti abbiamo visto addirittura la maglia rosa di andreas lecnessund fare capolino in un tentativo iniziale c'era anche remquevene pull davanti e roglice è rimasto dietro ma nel frattempo si sta formando questa prima fuga di cinque elementi con derek g ben hilly valentan parrepantre il fratello del vincitore dell'altro giorno aurelian carlos verona e tom scuins dietro a zonata milan ha vinto lo spent intermedio e poi a quel punto è potuta partire la seconda metà se così vogliamo dire della fuga lasciata andare a questo punto al gruppo baghi e rise bec si uniscono a battistella bidar tonelli iacchi mattia bais il fratello di davide vincitore di ieri e filippo zana il campione italiano forma una fuga ai 13 ma nel primo passaggio sui cappuccini a 50 chilometri alla fine ben hilly mette giù un rapporto duro stacca tutti sui cappuccini cerca di seguirlo tom scuins tutti gli altri sono battuti e pure scuins se ne va da solo hilly uno dei grandissimi protagonisti delle ardenne di quest'anno uno che ha combattuto con taipo gacar sui muri belgi e ora ha tritato un muro marchigiano litigano zane battistella dietro ma non c'è molto su cui litigare ben hilly si presenta con un minuto e mezzo sulla salita delle cesane mentre dietro jumbo visma e neos gneadiers fanno capolino in cima al gruppo durante questi muri salite e discese che possono mettere in difficoltà la quick step di renko e venepul che ancora una volta rimane solo nei muri finali ben hilly in mezzo a due ali splendide i folla sul secondo passaggio ai cappuccini quando dietro primo schroglitz porta al suo primo attacco di questo giro italia cerca di seguirlo a maglia rosa necnessund cerca di seguirlo kemna non ci riescono ci prova e venepul a rispondere ma poco dopo rincula viene sorpassato dagli neos gneadiers garen thomas e tauguegan hart che si ricongiungono a roglitz sulla cima dei cappuccini e vanno via negli ultimi chilometri insieme in tre i due ineos insieme a roglitz un'alleanza in un certo senso per contrastare lo strapotere di evenepul mentre ben hilly davanti arriva con minuti e minuti su tutti una prestazione dominante in fuga dopo che avea provato e riprovato in questi giorni ben hilly è uno vero è uno dei nuovi grandi nomi del ciclismo mondiale irlandese 22 anni ha battagliato con pogacar sulle ardenne dietro di lui derek g la spunta su filippo zana e warren baghie cogliendo un ottimo secondo posto mentre dietro c'è la lotta per la classifica generale con roglitz che spinge aiutato dagli neos gneadiers poi nell'ultimo chilometro tau sprinta per cercare di dare più destacco possibile a remco e venepul che alla fine arriva a 14 secondi in un gruppetto con jvain joal meida damiano caruso jack haye di dunbar e pavel sivakov roglitz oggi ha dato dimostrazioni di ciò che sa fare meglio attaccare su muri ripidi stretti simili a quelli della vuelta spagna ovviamente ben hilly è stato il grande protagonista della giornata davanti in una fuga che ha dominato lasciando tutti lì a 50 chilometri dalla fine ha dato un minuto e 49 a gente molto forte ma in realtà era arrivato a oltre due minuti e mezzo e ha guadagnato sul gruppo per un sacco di chilometri nonostante dietro tirassero in eos e jumbo andreas lecnes un doggi offre una grande prestazione prima riesce a seguire per qualche metro roglitz poi si salva 8 secondi ancora su renco e venepul ne perde solo 20 sul belga che perde 14 secondi a roglitz questa la classifica alla vigilia di una crono estremamente importante la crono che spacca in due il giro italia a cui tanti corridori stanno pensando da svariati giorni anche visto come sono comportati ieri sul gran sasso una crono totalmente piatta nelle zone di marco pantani da savignao sul rubicone a cesena 35 chilometri di cronometro pochissime curve è una crono per specialisti piacerà tantissimo a renco e venepul che oggi ha visto scricchiolare un pochino le sue certezze in questo giro d'italia dopo l'attacco i roglitz la fuga è stata vinta da un grandissimo ben hilly ci vediamo domani